Trovo sempre qualche imbecille che pensa che la grande cultura sia vedersi in dieci pinguini a cena o quando si inaugura una mostra in qualche museo. No, c'è anche quella che si chiama cultura popolare. Quest'anno abbiamo deciso di finanziare per 3 milioni di euro tutto l'evento di Lucid Artista, perché era giusto farlo. Quando in una città si portano più di 2 milioni di visitatori nell'arco di due mesi, due mesi e mezzo, si capisce che lavorano gli alberdi, hanno il tutto esaurito, lavorano i ristoranti, lavorano i bed and breakfast. Personalmente ci ho messo 5 anni per farmi fare questo cielo che non veniva mai come doveva essere. Questa volta credo che sia veramente bellissimo. Stiamo organizzando un convegno insieme con la Presidenza del Consiglio, credo il più importante che si sia svolto in Italia sul mezzogiorno negli ultimi anni, per rilanciare l'immagine di un Sud, non il Sud della muina, del vittimismo, della volgarità, della lamentazione, della cialtroneria, ma il Sud concreto, del rigore amministrativo, che è in grado di lanciare da Sud al resto del Paese, la sfida del rigore e dell'efficienza. Buonasera Presidente De Luca. Senta, domani per il Sud ci sarà un convegno con la Presidenza del Consiglio e Union Camere, tema il rilancio del Sud. Sarà il più grande convegno del Sud che si sia svolto al Sud fin dai tempi della creazione del Sud. Un convegno importante. Quando il buon Dio separò la luce dalle tenebre, già al Sud c'erano dei problemi per colpa di qualche fetente, che a quella luce si era attaccata abusivamente. Non cominciamo ad andare tutti indietro. Ma noi tutto questo lo cambieremo. Questo è importante, esatto. Rilanceremo da Sud al resto del Paese la sfida del rigore, dell'efficienza. Beh, bellissimo. Non il Sud dell'autocommiserazione, della trivialità, della bassezza. Bene. Non il Sud della santa inquisizione, della garrota, della lapidazione in pubblica piazza, diciamo. Abbiamo capito, perfetto. Dei sacrifici umani. No, ma non ci sono più, eh. Basta col Sud della macchia di sugo di Pumarola sulla camicia tarroccata. Ma adesso... Basta col mandolino scordato. Abbiamo capito. E basta col Sud dell'Ego, sto sole vuoi lavorare. Ma no. Ma godimmoci o mare. Ma infatti sono luoghi comuni superati. Il sole e il mare lo avremmo solo a orari prestabiliti, a gettone. Ci avrete... Grazie a questo convegno da lunedì, i treni del Sud avranno un'efficienza tale che non solo non saranno più in ritardo, ma addirittura passeranno a prendere i passeggeri sotto casa. Ma perché esageri? Il capo stazione citofonerà e aspetta il passeggero sotto casa col maritozzo. Ma non esageri. Il meridiano di Greenwich, vista l'efficienza del Sud, non vorrà più passare da Greenwich. Mi sono rotto l'alma. E da dove parte il meridiano? Ma da quella perla di rigore che diventerà scampita. Tutti gli orologi del mondo saranno sincronizzati sul tempo di Benevento. Va bene, ce lo auguriamo. Comunque, invece parliamo un attimo di Lucid Artista, la manifestazione che si tiene a Salerno. Ecco, Mimmo Paladino, famoso artista contemporaneo, ha detto che Lucid Artista in realtà c'erano già a Torino. C'è un'idea che nasce a Torino. Mimmo Paladino. Sì, che è un artista. Un grandissimo. Esattamente, un grandissimo artista. Se mi critica Mimmo Paladino, ha solamente detto che... Chi sono io contro il Mimmo Paladino? Ma non c'è da mettere sul personale. Io sono un presidentello di regione, un signor nessuno. Sento del sarcastico che... Io chino il ca, un segno di rispetto, perché lui è Mimmo Paladino. Sento un filo di... Io di fronte a Mimmo Paladino mi butto una forbice sul collo, mi allento, mi metto l'acqua sul ca. No, stia a fare la presa, sia cortese. Mimmo Paladino. Ha solamente detto che Lucid Artista era già... Se esponi un Mimmo Paladino agli uffici, la vergine di Botticelli dice, non son degna. Ma non... E se ne avvia, va via dal quadro. Non sia sarcastico. E rimane tutto Mimmo Paladino. Non sia sarcastico. Nella cappella Sistina, via. Cosa ci fa quel Mimmo Paladino? No, ma allora, guardi che Paladino è un grande artista. Il grande artista Paladino. Quando i ladri entrano in una mostra di Mimmo Paladino, lo sa cosa rubano? No. I chiodi. Non è vero, non è vero. I quadri li lasciano lì perché sono più preziosi i chiodi. Non è vero, non gli insulti. Guardi che non ha fatto una critica, eh. Ha solo ricordato che Lucid Artista è nato a Torino. Lucid Artista, come si fa a criticare Lucid Artista? Ma non è una critica. Il capolavoro assorto. Ma sì, ma è bellissimo. Il grande Thomas Edison, inventando la lampadina, ebbe a dire ora posso morire in pace perché la mia invenzione tra 200 anni avrà un senso grazie a Lucid Artista di Salerno. Ma perché esagera sempre? Che soddisfazione, che gioia, che orgoglio. Sarà una bellissima manifestazione, però no. Non la Napoli della cialtroneria. Sì, non ricominciamo. Non il sud oscuro, il sud all'ombra, non il sud delle lampadine fulminate. Sì, va bene. Lucid Artista, perfetto. Non ricominciamo però con... Ma un sud illuminato, capace di attirare a Salerno due milioni di persone in un'ora e mezza. Ma cosa dice? Io mi auguro che... Si narra di intiere nazioni svuotate per venire a Salerno a vedere Lucid Artista. Ma guarda, io mi auguro che... In Australia non c'è più nessuno che la manda avanti. Sono tutti a vedere Lucid Artista. Canguri che saltano per le strade di Sydney, del centro, con lo sguardo di chi dice... Ma dove cazzo sono finito? Ma perché deve essere... Tutti a Salerno. Tutti a Salerno. Tutti alla pensione Stella di Agropoli, tre giorni e due notti, colazione e wifi incluso, a 38 euro e 90. Ma guardi, ce lo auguriamo tutti. Bevo. Bevo. Ce lo auguriamo tutti però, eh. Se lei trova l'ascensore bloccato, con dentro 35 australiani incastrati come nel Tetris. Addirittura, nel Tetris. Incastrati ma felici perché anche negli ascensori ed Agropoli le plafoniere sono plafoniere d'artista. Non il sud che non funziona, non il sud che ha rato, non il sud della cialtroraggine dei Mimmi Paladini. Guardi, guardi, cambiamo argomento. Mimmo, detto Paladini, mi avesse detto un pappano. Ma Mimmo Paladini, personaggetto, con disegnetto di sorrisetto sulla faccia. Lasci stare, Mimmo Paladini. Mimmo Paladini. Abbiamo esaurito l'argomento, direi. E ora che tu sappia di chi sei figlio, Mimmo Paladini. No, stiamo, no. Hai 35 anni ormai, come diceva il famoso film. No, no, no. Non la butti sul personale. Cambiamo argomento. Allora, invece parliamo dello stanziamento di fondi della regione per le attività audiovisive. Quindi girerete dei film in Campania. È certo. È bella questa cosa. Naturalmente è possibile non solo per i fondi stanziati dalla regione Campania, ma anche perché il concetto proprio di girare in Campania l'ho introdotto io. Non credo, adesso no. Prima di me in Campania non solo era impossibile girare un film, ma era proprio... mancava il concetto del girare. Addirittura il concetto di girare. Le pagine dei libri, per esempio, non si potevano girare, perché la gente non sapeva. Per questo motivo i libri venivano pubblicati su una lunghissima pagina. Guerra e pace si poteva leggere soltanto steso sull'autostrada nel tratto da Roma a Salerno. Non esatto, ma perché? I bambini quando cantavano Giro e Giro e Tondo non la capivano. È certo, che giro, cosa vorrei dire? Le uniche filastrocche negli asili nido erano melodrammi di Mario Mero. Va bene, ho capito. Ho tutto... Lo fa benissimo, senta, però lo stanziamento è cospicuo, no? Perché si parla di 5 milioni di euro in tre anni. È tanto. È un grande progetto. Eh beh, certo, è. Un progetto che consentirà presto alla Campania di diventare il primo polo della cinematografia mondiale del mondo. Ecco, magari no, no, rimane Hollywood, rimangono... Ho già avuto le prime richieste da Woody Allen. Ah. Che ha intenzionato a rifare il suo famoso film Manhattan, ribattezzandolo Battipaglian. Io non credo, ecco, questa mi sa che è un po' azzardata. Faremo un ultimo tango a Parigi. Eh sì, certo. No, no, l'ultimo tango a Parigi di Bertolucci. Un film, eh, bellissimo. Sarà solo un pallido ricordo a confronto del colossal. Quale? L'ultima tarantella a piedi grotti. Ma che farete di certo. La famosa scena del burro. Sì, sì, sì. Era fatta con la mozzarella di bufala. No, no, vabbè, vabbè, certo. No, no, no. Che notoriamente non lubrifica. No! Tanto che da film a sfondo erotico... E poi chiudiamo. Tanto che film da sfondo erotico diventerà il caposaldo del genere horror. Dio! 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 Dio!